salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova guida su the division prima di iniziare vorrei fare un paio di ringraziamenti il primo sicuramente va al mio amico aura limit che ha creato per me l'intro di questo video che sarà l'intro generica di tutti i miei prossimi video sia guide sia gameplay sia random eccetera lascio il suo il suo canale in descrizione perché anche lui ha un canale youtube fa video di league of legend altri gameplay eccetera molto divertente ve lo consiglio andatelo andatelo a vedere il secondo ringraziamento va a tutte le pagine facebook gruppi facebook italiane su the division che mi hanno permesso di postare i link ai miei video quindi ringrazio entrambi e vi lascio i link delle pagine dei gruppi anch'essi in descrizione detto questo iniziamo questa guida in questo episodio voglio soffermarmi su una cosa che avevo già accennato e avevo già un po evidenziato nel primo video quello sul sull'endgame in pillole ed è il sistema del crafting del sistema del fai da te successivamente vedremo anche il sistema di ricalibrazione cosa c'è da dire sul sul sistema del fai da te che per chi è un po avvezzo a videogiochi come ad esempio diablo o world of warcraft non avrà eccessivi problemi a capire il funzionamento e a districarsi tra le varie opzioni allora intanto cosa cosa bisogna fare prima di poter costruire qualsiasi cosa a parte per i gli oggetti standard che troviamo che man mano salendo di livello per quanto riguarda gli oggetti più rari più potenti quelli di alta gamma dobbiamo ottenere i progetti relativi come si ottengono i progetti si ottengono esclusivamente in quattro modi allora il primo modo è completando le missioni secondarie quelle che vedete ecco che c'hanno il pentagono questo bluino qui comunque sulla mappa le vedete ogni missione secondaria vi dà un progetto che può essere per un'arma per un pezzo di equipaggiamento eccetera il secondo modo è completare tutte le missioni secondarie di un determinato quartiere se vedete la mappa è suddivisa in quartieri health kitchen dove c'è gordon ramsey che è un boss finale del no sto scherzando clinton times square una volta completate tutte le missioni secondarie di un determinato quartiere vada bene che le alcune missioni secondarie sono divise in parti ad esempio vedete qui in alta sinistra judy walters parte 1 magari le altre parti si spostano in altri quartieri ma vale sempre per quel quartiere quindi una volta completate tutte le missioni secondarie dovrete tornare al rifugio mi raccomando andate è la prima cosa che dovete fare è sbloccarli i rifugi e semplicemente parlando con l'ufficiale della gtf o esaminando un armadietto vi darà un progetto elitario quindi viola quindi missioni secondarie per i progetti blu tutte le missioni secondarie di un di un distretto per un progetto viola gli altri due modi sono il primo dal venditore di equipaggiamento speciale che trovate qui nella base nel dipartimento tecnologico che vi vende i progetti che si aggiornano ogni settimana ogni settimana cambiano tutti gli equipaggi tutti gli oggetti che vende compresi anche i progetti vedete progetto libereto progetto modo equipaggiamento a fuoco eccetera l'altro l'altro modo sono i venditori speciali all'interno della zona nera nella zona nera come ho detto nella mia guida appunto sulla suddetta ci sono le stanze di sicurezza all'interno di queste stanze di sicurezza troveremo oltre che appunto il rifornimento di munizioni e medikit anche il venditore un venditore che venderà oltre ad armi ed equipaggiamento già elitario o di alta gamma ulteriori progetti questi progetti saranno acquistabili solo con un rank zona nera 50 ecco mi raccomando state attenti perché questi progetti non si trovano nei posti di blocco o nel vendor di zona nera che abbiamo all'interno del della nostra base delle operazioni ecco se vedete infatti non ci sono lui vende al massimo oggetti di grado 30 prima di iniziare a vedere il funzionamento del crafting cosa ci serve per appunto creare gli oggetti allora se andiamo su borse in alto a destra vedremo che avremo le fonti del fai da te questi sono tutte le materie prime necessarie a craftare gli oggetti al fai da te quindi avremo il tessuto ottenibile da tutti i pezzi di equipaggiamento quindi corazze maschere ginocchiere guanti componenti delle armi che si trovano smantellando le armi quindi non le mod per le armi anche se si chiamano componenti armi sono pezzi delle armi strumenti che invece si ottengono smantellando le mod armi le parti elettroniche che si ottengono smantellando le mod equipaggiamento e poi c'è l'ultimo gli equipaggiamenti della divisione gli equipaggiamenti della divisione sono intanto molto rari perché si trovano solo in due modi e si trovano solo nella zona nera allora ci sono delle zone come avevo già detto eccola qui equipaggiamento la divisione quindi vuol dire che in questa zona sicuramente troverete delle valigie che sembrano delle valigie quelle porta fucili eccetera all'interno delle quali troverete equipaggiamenti della divisione oppure contro i boss sempre della zona nera raramente ve li possono droppare anche alcuni elitari ma è molto molto raro principalmente i boss solitamente ne droppano ne droppano un po di equipaggiamenti della divisione ma come funziona il crafting vero e proprio il crafting vero e proprio è semplicissimo praticamente una volta che avremo ottenuto i progetti che ci interessano ad esempio progetto zaino armi da fuoco resterà una volta evidenziato l'oggetto che vorremmo craftare tenere premuto il tastino crea quindi lo vado a creare tengo premuto e ecco qui esce con un determinato valore di corazza che è rientra in questo intervallo una determinata capacità dello zaino o vabbè dipende dalla statistica che ha l'equipaggiamento esempio qui era tra 21 e 24 è scito 22 e poi siccome questo è un oggetto progetto per armi da fuoco poi c'è anche il progetto vigore e il progetto parte elettroniche ci dà la possibilità di scegliere la statistica che sicuramente uscirà ed è molto una cosa molto molto comoda poi gli equipaggiamento di alta gamma hanno anche uno un talento extra ad esempio questo specialista aggiunge il 13 per cento di armi da fuoco e vigore alla alla potenza e l'abilità che non è male è uscito con una buona statistica di armi da fuoco e poi ovviamente le i bonus in esempio abilità e rapidità resistenza e moragia e lo slot mod che non non è uscito troppo male anche migliore del mio quindi penso anche penso addirittura che lo terrò questo era semplicemente il funzionamento del del crafting ora cosa c'è da dire per quanto riguarda l'equipaggiamento i talenti che ho riscontrato sono penso sempre i soliti quindi non ci sono molti problemi a ricreare gli oggetti principalmente li dovrete andare a ricreare se il bonus che è uscito proprio non vi serve a niente e lo volete cambiare in caso mentre per quanto riguarda le armi c'è un discorso a parte siccome non tanto per i danni che è l'unica l'unico fattore random uscire le cose più importanti sono i talenti i talenti sono quelli che vi faranno tra virgolette dannare di più perché siccome sono tanti talenti disponibili per le armi e non si sa mai quelli che possono uscire potrebbero uscirvi ad esempio tre buoni da assaltatore ad esempio io ho un vector con brutale reattivo e rapido che sono tre talenti ottimi per una per un mitra per un smg da assalto che aumenta i danni del corpo alla testa aumenta i danni quando si è a distanza ravvicinata e solitamente gli smg siccome hanno una gittata molto corta si usano a distanza ravvicinata e la ricarica rapida è sempre comoda in questo caso sono usciti tre buoni talenti però sarebbero potuti uscire ad esempio vi faccio vedere il mio fucile al cecchino che non è uscito con dei talenti molto buoni ad esempio competente bonus danni inflitti quando usi abilità più 13 per cento per 10 secondi siccome a parte che richiede un alto livello di parti elettroniche che io non raggiungo quindi non ce l'ho neanche attivo siccome io non uso spessissimo abilità la build che mi sono fatto questo talento sarebbe anche se avessi parti elettroniche sufficienti sarebbe quasi sempre disattivo quindi non lo sfrutterei mai idem per quanto riguarda il talento violento che anche qui richiede anche di più anche più parti elettroniche rispetto a competente e il primo colpo di un caricatore a 13 per cento probabilità di causare fuoco al bersaglio questo penso sia un talento inutilissimo per quanto riguarda un fucile che ha un caricatore da 20 colpi già uno con 15 colpi penso che al massimo vada bene per fucili da cecchino con caricatori da 5 colpi quindi che si sta sempre a ricaricare quindi in questo caso io dovrei crearne un altro per vedere sperando che mi esca con dei talenti buoni quindi l'unica accortezza che vi do per quanto riguarda il craft delle armi è stare attenti ai talenti che vi escono perché a livello 30 non sono tanto i danni quelli che dovete andare a ricercare ma sono i talenti giusti perché sono il boost più importante alla vostra capacità di offesa o anche di difesa ad esempio ci sono talenti che vi danno la possibilità di recuperare vita uccidendo i bersagli bene questo era tutto per quanto riguardava il crafting anche perché non c'è molto da dire il consiglio che vi do è se state livellando e avete dei problemi con qualche missione troppo difficile magari oltre che cercare di salire di livello perché non è tanto salire di livello quello che vi dà più possibilità di sopravvivenza la missione ma è appunto l'equipaggiamento sbloccato da quei livelli è fare le missioni secondarie di una determinata zona sbloccare il progetto con quell'equipaggiamento elitario quindi sicuramente più forte di quello che potreste droppare anche dalle missioni della storia normale che al massimo a normale droppano verde e a difficile droppano blu vi possono dare un ottimo aiuto per superare determinate missioni in quel momento troppo difficili andiamo adesso a vedere la parte che riguarda la ricalibrazione ok la stazione di ricalibrazione è un bonus che si sblocca al dipartimento tecnologico mi sembra costi o 400 o 200 comunque abbastanza accessibile fin da subito come funziona la ricalibrazione la ricalibrazione in sé per sé è semplicissima noi andremo a selezionare una parte di equipaggiamento a notate bene funziona solo con i sei pezzi di equipaggiamento base non so se in futuro metteranno la possibilità di ricalibrare le armi o ricalibrare magari una mod eccetera per adesso vale solo per i sei pezzi di equipaggiamento dell'armatura diciamo come funziona allora io vado a cercare un pezzo di equipaggiamento ad esempio la fondina e decido che il suo valore di cure alleati pronto soccorso non mi interessa e voglio qualcos'altro allora cosa faccio io vado a selezionare la statistica il bonus che voglio cambiare la statistica o il bonus che voglio cambiare e premo la roulette quindi io tengo premuto la roulette questo gira e mi rolla quattro altre statistiche che mi potrebbero servire potrebbe anche essere che mi esce fuori qualcosa che non mi serve ma potrebbe anche essere che mi esce fuori un bonus che mi serve ma con un valore basso quindi magari per ora mi tengo cure alleati pronto soccorso e poi in futuro lo rirollerò finché non mi esce che ne so 8 per cento danni bomba adesiva allora due accortezze più volte rollerete un pezzo di equipaggiamento più costerà il roll quindi la prima volta ad esempio mi è costato 16 mila crediti ora già mi costa 28 mila magari la volta dopo costerà 36 mila 40 mila e così a crescere non penso ci sia un limite a quanto può crescere un determinato costo di roll per il singolo pezzo altra cosa che sicuramente avete notato è che adesso non posso più scegliere quale statistica andare a cambiare quindi posso cambiare una sol un solo bonus per pezzo quindi io da ora in poi potrò girare solo questo bonus o solo questa statistica altra accortezza per quanto riguarda nello specifico i pezzi di alta gamma i pezzi di alta gamma sebbene il funzionamento sia lo stesso tranne per il fatto che i talenti non si possono girare non costerà crediti la ricalibrazione ma costerà crediti fenix quindi state state veramente molto attenti perché siccome 30 crediti fenix sono una missione giornaliera praticamente non si farmano così velocemente quindi prima di andare a ricalibrare un pezzo di alta gamma vi consiglio direttamente di ricreare di ricraftarlo se avete il progetto se non avete il progetto vi conviene al massimo farlo con pezzi di livello potenza 31 vedete ad esempio questo è un livello oggetto 30 quindi non mi conviene andarlo a potenziare andando andarlo a ricalibrare magari questa qui che è livello oggetto 31 è già più forte ed è già buono come come pezzo a me della resistenza fuoco non interessa e magari la vado lo vado a ricalibrare vediamo con cosa si può ricalibrare eccoci qua con resistenza fuoco magari mi può interessare danni corazza nemici quindi io quando avrò tutto completo tutto l'equipaggiamento di livello oggetto 31 di alta gamma con i talenti giusti eccetera allora inizierò a spendere i miei crediti fenix per iniziare a cambiare i bonus che non mi interessano su determinati pezzi di alta gamma la ricalibrazione in sé è tutto qui semplicemente non è altro che cercare di cambiare a fortuna un bonus che non ci interessa o che magari non è venuto buono però il mio consiglio rimane sempre che per i pezzi di alta gamma non andate a consumare crediti fenix inutilmente perché sono molto rari sono molto utili quindi il mio consiglio è questo con questo si conclude questa doppia guida sul fai da te sulla ricalibrazione io mi auguro che seguendola vi siete riusciti a togliervi qualche dubbio sul funzionamento di questi due aspetti del gioco e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale a mi raccomando di non perdere i piccoli extra che metto in ogni mio video quindi aspettate ve ne vale la pena ci vediamo al prossimo video guarda quando ti avvicini sento il rumore delle casse mi parlano le casse mi parlano e giuro non mi drogo ma dove cazzo sono finito ma che cavolo sono finito ok ora posso guidare il camion sono dentro il camion guarda lo vedi mi hanno trattato vieni vicino al camion vicino al camion proprio trattato io sono finito nel camion non mi posso muovere che cazzo e guarda sono nel camion ma che cazzo grazie grazie davvero grazie minchia il il camion della morte cazzo